Il consigliere comunale di Agropoli con delega ai lavori pubblici Franco Di Biasi dichiara la sua indipendenza dal PD, forza politica di maggioranza del Comune Agropolese, che non sta attraversando un periodo particolarmente semplice. Ufficialmente non si ha conoscenza dei reali motivi che hanno spinto il consigliere dell'amministrazione Coppola a separarsi dal Partito Democratico Agropolese, il quale parla di senso di appartenenza al gruppo politico venuto a mancare. In realtà è da tempo che in città circolano voci riguardo alla poca soddisfazione di alcuni consiglieri verso l'operato del sindaco Adamo Coppola e questo potrebbe essere il reale motivo che ha spinto Di Biasi a dividersi dal partito. Franco Di Biasi resterà nella maggioranza per continuare un progetto civico in cui, come dichiarato da lui, ancora crede. Qualche settimana fa ho presentato la mia dichiarazione di indipendenza dal PD di Agropoli, scrive Franco Di Biasi in una nota sul suo profilo Facebook. Oggi credo sia giunto il momento per definire il percorso di riflessione che mi ha portato a prendere questa decisione. Lo devo ai miei lettori innanzitutto, lo devo ai miei colleghi consiglieri comunali, lo devo agli amici del progetto politico in cui ho militato. Le sfide ai cui bisogna reagire sono tante. È stato un anno davvero difficile. In questo contesto è diventato cruciale per me ricordare il patto fatto con gli elettori e portare a termine gli impegni assunti in campagna elettorale. Ho dovuto fare un esame di coscienza, spogliarmi dei pregiudizi e guardare alla soluzione dei problemi in maniera diversa, attraverso uno sguardo obiettivo e costruttivo. Nonostante gli anni trascorsi all'interno del PD di Agropoli abbiano generato innumerevoli rapporti di amicizia e l'accrescimento di valori, di ideali e di un mio personale bagaglio formativo, il senso di appartenenza al gruppo politico è venuto a mancare. Di fronte a questo stato di cose dichiararsi indipendente è, a mio parere, la maniera più vera in rappresentare gli interessi degli elettori e dei cittadini. Rimanendo coerente alle idee in cui ho creduto e nelle azioni future, ribadisco che resto in maggioranza per contribuire a un progetto civico nel quale continuo a credere. Rimango leale al mio leader politico di riferimento e ribadisco la mia piena disponibilità all'amministrazione affinché si riesca a rimanere fedeli alle promesse fatte. Mi auguro che questo tentativo sia un nuovo punto di partenza per un proficuo operato, conclude nella sua nota il consigliere Franco Di Biasi.